Correva l'anno 1836 quando il re Carlo Alberto di Savoia istituì il corpo dei bersaglieri su proposta del capitano Lamarmora. Da subito la missione di questa specialità d'arma rappresentò un elemento innovativo nella fanteria d'appoggio. Ne facevano parte soldati audaci, coraggiosi e particolarmente atletici. Il loro compito era di creare scompiglio tra le fila nemiche attraverso incursioni rapide. Dovevano correre, combattere e proteggere i commilitoni durante la marcia. Una storia nazionale suggestiva e gloriosa, lunga quasi due secoli, attraversata a passo spedito nei suoi nodi più cruciali. I moti insurrezionali, l'unità d'Italia, la prima guerra mondiale e poi su, fino al secondo conflitto e all'epica pagina scritta dai bersaglieri Adela Lamain in Africa, quella che fece dire alla volpe del deserto Rommel «Il soldato tedesco ha stupito il mondo, il soldato italiano ha stupito quello tedesco». Ora i fanti piumati vengono celebrati in un cippo, inaugurato in quel dimorazzone con una grande cerimonia fortemente voluta dalla locale sezione, istituita cinque anni fa, e alla presenza di numerose autorità militari e civili, insieme a tante persone comuni, salutate dal vicepresidente nazionale del corpo, Daniele Carozzi. Rete55 ringrazia Massimiliano Ponti per le immagini che state vedendo e vuole ricordare il nonno di Marx, Luigi Falcetti, bersagliere disperso durante la campagna di Russia. A lui e a tutti i fanti piumati di ieri e di oggi, il nostro rispetto e il nostro saluto, a passo di carica naturalmente.